ciao a tutti da tiger siamo in un nuovo video di fortnite ecco qua come ho detto nel video di ieri del contest che nessuno ha commentato ancora non ve ne frega un cazzo vabbè in caso io il codice lo prendo e lo vendo non è che lo regalava un amico peggio per voi che non avete la fortuna di provare a vincere il codice ecco il fumetto numero 4 mi sono già scordato già in cartetta abbiamo aspettato fino alla sera mi è arrivato stamattina da amazon devo dire che è puntuale addirittura mi è arrivato prima a me che ha lo youtuber martex tipo oggi in live si è lamentato che ancora lui è in calabria sta alla mezza alla mezza termina cosa del genere sta se non mi sbaglio e dice che lui nonostante non è youtuber glielo regala direttamente epics a lui ancora non le arrivate mi è arrivato prima quindi mi sento fortunato di portare il video prima di lui quindi ecco qua il e se non mi sbaglio neanche ciccio gamer è arrivato già ancora ecco qua il di dietro è diverso prima c'era gioca invece mo c'è batman ma la scatola tu sono con la mia ragazza comunque anche nello scorso video era stavolta facciamo un video un pochino più lungo ce la fai senza rovinarlo perché sai che per me queste cose sono preziosi anche se forse ormai è andata una merdata per vari motivi forse con te ecco devo dire che questo qua c'è 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 devo dire che questo qua insieme al numero due è uno dei più belli come per quanto riguarda la copertina comunque vediamo se c'è il codice sì il codice c'è una caccata molto carino molto liscio profuma profuma di cinesi che si buttano dal balcone ragazzi non so come farvelo vedere vai che sbaglio io sbaglio io vai te lo facciamo vedere così c'è allora è inutile che alla fine vi spiego in poche parole c'è c'è batman che combatti contro deadstroke una cosa del genere ecco robin allora vi dico una cosa questo che non è uno spoiler ho saputo già che questo che robin sarà un pacchetto oppure potrebbe essere anche nel passo nella prossima stagione quindi o si paga o se lo danno grazie spero che sia nel passo che è bellissimo comunque si continua praticamente poi alla fine si smettono di combattere deadstroke e batman poi arrivano tipo delle meteore comunque il fumetto è collegato alla fine della stagione alla stagione nuova quindi sicuramente vedi segni segni questi simboli se non mi sbaglio erano anche nella foresta questi qua che riguardano gli alieni pesce secco e questo qua vedete questo qui questo personaggio qua questo personaggio mi sembra un extraterrestre quindi secondo me questo qua secondo me sarà un personaggio del passo oppure sarà proprio un personaggio un cattivo del o comunque un personaggio della nuova stagione perché mi sembra proprio un extraterrestre e vabbè batman e catwoman che si sono innamorati penso 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 pubblicità di superman può darsi che uscirà anche superman che insomma superman non è mai uscito neanche come personaggio ci mancherebbe su fortnite no è morto pesce secco pesce secco che se la sono mezza faccia della sono mangiata non si è chiesto perché è perché ma è mangiato capito comunque c'è qualcosa che l'ha ucciso la lanterna verde c'è pure lanterna verde le varie pubblicità ovviamente il codice che adesso andremo a riscattare la solita procedura vi farò vedere cosa ci dà che stavolta questo qua da il deltaplano di deathstroke che è molto grande poi tipo fa un effetto flessibile quando vola quindi è molto bello e niente questo era il giuramento a dopo ormai è la quarta volta che veniamo qua e appunto dobbiamo inserire il nostro codice tutto maiusco ok questo qua è il codice riscatta the stroke destroyer glider glider vabbè attiva e questo codice è andato stanno arrivando 86 2021 martedì la nuova season e abbiamo avuto anche un un nuovo teaser eccolo qua questa sarà sicuramente una nuova ma questa un un qualcosa che c'è pure la faccia della gente giornale si sarebbe una specie di liquido per sicuramente per curarsi una roba del genere questo con gadget della stagione se la smetti di andare sempre di qua porca troia va bene e ci vediamo sul gioco e andiamo a vedere il codice la ricompensa ok i due vabbè la solita scritta gli oggetti sono stati riscattati i tuoi oggetti ti aspettano la varie le varie cacate ne ho un pochino eccolo qua equipaggia subito di nuovo anche quel teaser va bene andiamo a provare un attimo quasi piega a questo effetto che si piega che a me piace tantissimo è bellissima sta cosa è una figata assurda bellissima è troppo grande questo è vero ma il deltaplano però l'effetto che è bellissimo niente da dire veramente un bellissimo un signor deltaplano ciao tutto che ci fai qui niente non è male fatemi sapere se vi piace commentate iscrivetevi lasciate like ci vediamo un prossimo video ciao a tutti da tiger alla prossima